Sono la dottoressa Savoini, Margherita Savoini, psicologa, psicoterapeuta della neuropsichiatria del Gaslini, da oltre 40 anni di fatti sono in pensionamento, insieme alla dottoressa Preiti, che è una delle migliori tirocinanti che abbiamo avuto negli ultimi anni in formazione psicoterapeutica, presenteremo i nostri interventi, gli interventi che conduciamo con i genitori dei bambini con ADHD. Faremo prima una revisione della letteratura sulle ultime ricerche riportate e poi presenteremo il nostro intervento che consiste in un... vuoi dirlo tu? Sì, va bene, niente, consiste in un... prendiamo spunto dal programma CERG del professor Conoldi dell'Università di Padova e l'abbiamo rimaneggiato in quanto io non sono una terapeuta cognitivo-comportamentale, bensì ho un orientamento di tipo dinamico, di conseguenza mi piaceva il connubio tra il cognitivo-comportamentale e l'orientamento dinamico per quanto riguarda gli aspetti mentalizzanti che vogliamo, diciamo, enfatizzare sì nei genitori, nel rapporto genitori-figli. Grazie. Grazie a tutti.